però lo stanno dormendo ma non guardate qualcosa di stra... ciao, sono io ma non è la vita giocattola, adesso vi presenterò una nuova balla fake e poi super fake non è un fail ma è fake perché è una troppo bella, non so che non veniva da lì e poi guarda cosa ho trovato questa è la postina che ho fatto a dire per un letto, potreste poi ci fare un po' di decoupage della casa ma adesso vi rappresento ed è lei teradatta guardate qua, è bella carina, fantastica che ci sia cos'è guardate è troppo bella è capelluta veramente guardate veramente capelluta si, sono veramente capelluta ma mi hanno fatto le sopratiglia blu non è giusto guardate il vestito è fantastico lei sarà una lol super perché lei non ha tanti errori non ha tanti errori in particolare però è troppo troppo carina è troppo carina vero ragazze se se state guardate questo video mettete tantissimi polliciati su tantissimi like don't like allora il senatore avrà una bella penitenza no sto scherzando sto scherzando no una penitenza mai è penitenza e guardate qui tutto è stato dormito perché ops devo fare silenzio perché ora è notte guardate non c'è una luce è quasi tutto spento tra lì vabbè qui è acceso però ho messo il flash ma in realtà è tutto spento tutto qua tutto qui qui guardate tutto è spento anche se c'è il sole non ve lo voglio farli che io ve lo voglio far vedere che è tanto ora è tanto il sole ops quindi poi faremo TGLOV24 che lo dovremmo fare solo TGLOV24 e poi dopo pubblicherò la intro dei video delle lol di altri video di Fortnite di tutto di Minecraft io non sono proprio molto femminile sono pure maschile perché non ho cose da femmine se io sarei troppo femminile mi annoierai troppo Minecraft è invece bellissimo anche se io preferisco Fortnite e poi ci sarà il video dove vi faremo vedere il nostro primo video cioè dove abbiamo aperto lei che adesso vi faccio vedere guardate da grigli alto così e si è rotta una stecca degli occhiali incredibile fail super fail super mega super mega fail quindi per chi non ci ha seguito ci deve seguire e poi su Instagram ci sarebbe noi su Instagram vorrebbe Angela Cataneo e Sergio con tutti quindi per chi non ci ha seguito ci segua pure su Instagram da solo su YouTube guidando su YouTube è troppo bello io sono YouTube anche della vita reale perché 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 in tutti i paesi del mondo aiuto ma non sto colorando il muro perché ormai si colora in tutti i paesi del mondo tutti pure cina da qualsiasi cosa da qualsiasi parte andata potete sempre guardare YouTube anche se dovrete farvi prendere il Wi-Fi anche se se non lo fai prendere comunque se è buono allora il Wi-Fi funziona quindi seguiteci ora stoppate il video anzi meglio che lo finite prima di guardare e andate su Instagram e vedete i video tutti quanti i video cioè no i video e poi c'è pure una parte del video dove guardate con le faccia aspetta ecco io ho spoilerato una cosa e li potete vedere tutte anche sempre che poi farà pure case delle la super lol surprise lo farà pure tg lol lì sicuramente tanto sarà cortissimo tg lol lo farà un altro giocattolo cioè le barbie che sono nostre amiche solo che non ve l'abbiamo mai detto perché perché nessuno che adesso vanno in moda di più le lol adesso non vanno le lol ma potno detto sì però a me fortuna ti piace però proprio lo sai aspetta vi devo anticipare una cosa la prima serie dei maschi poi la la wave 2 dell'elizzo e la wave 2 dei fatti pets quindi correte subito perché ovviamente sono sempre aggiornatissima non ho sempre aggiornata con queste cose anche se io non so che significa il codice di solo delle confetti pop soprattutto quello lì dello storybook club e dell'atletico club quindi se nessuno ci ha seguito ci segue oppure segnalare che niente ci seguito però senza premere il tasto segui e faremo pure delle storie non quelle lì già già no ma una super delle l'alchemy salutare Beppe faremo uno speciale 50 iscritti 20 20 30 40 50 60 vabbè poi 100 100 ma il milione vabbè faremo tanti speciali che ci arriva manca poco per fare il 20 lo speciale 20 iscritti non abbiamo fatto i 10 ma lo saltiamo e quindi i dovete scrivere tutti aspetta vi dico un'altra cosa per avere più iscritti ditelo anche alle vostre amiche che piacciono le loro fortner qualsiasi cosa così noi arriveremo subito a 20 io l'ho fatto già con una mia amica quindi adesso tocca a voi ditelo subito a tutte le vostre amiche di seguire qui sotto il canale Sergio con tutti e adesso ciao ho parlato fin troppo ciao